13 maggio 2017, giubileo centenario dell'apparizione di Fatima, cimitero di Rocca Ravindola. Salvatore Coppola sta sistemando insieme a mio fratello Italo il quadro della Madonna di Castelpetroso. L'artista è Franco Matticoli di Coppolicchio di Isernia. A Coppolicchio, per un determinato periodo della sua vita, visse anche Bibiana, lavorava all'acqua solfuria. Il marmo è dei maestri Siano della curva di San Nicandro a Venafro. I maestri, i marmisti, fratelli Siano, curva San Nicandro a Venafro, Raffaele, Gianluca. Il telaio in ferro è stato realizzato da Salvatore Coppola, maestro in ferro. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eterno riposo, donna loro, Signore. Splenda tessi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. San vera, Meda di Dio, prega per noi peccatori. Pittore Franco Matticoli di Isernia Marmisti, Fratelli Siano, Curva San Nicandro di Venafro, Gianluca, Raffaele, i Fratelli Siano Maestro in ferro Salvatore Coppola dalla Renella 13 maggio 2017, giubileo centenario dell'apparizione della Madonna Fatima, cimitero di Rocca Ravindola Stanno collocando il quadro Salvatore Coppola, maestro in ferro e mio fratello Italo Lilli Grazie Grazie Grazie